Ci sono eventi nella storia dell'uomo che lasciano ferite profonde nel tessuto sociale ed economico. Allo stesso tempo ci impartiscono importanti lezioni, se sappiamo coglierle. Gli eventi degli ultimi due anni hanno impattato su ogni aspetto della vita economica e sociale. Abbiamo dovuto fare un bilancio, ristabilire le giuste priorità e creare i meccanismi per far fronte a questa nuova realtà. La storia ha però più volte dimostrato come la crisi porti all'innovazione. Sono nati nuovi modi di lavorare, di collaborare. Stiamo costruendo una nuova quotidianità. E l'unica certezza, in questo momento di profonda instabilità, è che nulla sarà come prima. Abbiamo iniziato un viaggio metaforico, come persone e come comunità. Un viaggio di scoperta e crescita personale, ma anche un viaggio collettivo perché solo insieme possiamo muovere quell'energia che è il motore del cambiamento. Per attraversare l'incertezza della guerra, della pandemia, del cambiamento climatico, serve allargare i punti di vista, mantenere viva la speranza in un futuro migliore. Serve rafforzare il senso del noi, credere nel valore della comunità, dare vita a un racconto collettivo. Per ritrovare l'entusiasmo delle cose nuove e la leggerezza della creatività. Per andare oltre. To get there. To get there.